Hanno parlato di rivoluzione gli assessori Piero Fioretti e Nicoletta Verì che insieme con il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Pietro Quaresimale hanno illustrato modalità e criteri del cambiamento. Il nuovo piano sociale regionale diventerà una infrastruttura sociale di base che presenti le necessarie flessibilità in modo da adeguare l'offerta sociale in ragione dei bisogni dei cittadini. Un'attenzione importante per quanto riguarda la continuità assistenziale. Dopo il primo intervento del sistema sanitario c'è bisogno di un intervento integrativo che vede le grandi realtà sociale e sanitarie all'unisono a formare quelle che sono le risposte adeguate per l'appropriatezza. La nostra è una regione dove c'è un grande numero sia di pazienti disabili ma soprattutto anche di anziani. Quindi è nata in noi questa consapevolezza di prendere in atto questa realtà e definire quelli che saranno i più puri programmi che attueremo. Non è ancora un provvedimento, è una prima parte di lavoro in quota alla Lega, è presente il capogruppo della Lega Quaresimale, c'è il collega Assessore Verì perché vogliamo dare un'impronta particolare al sociale in Abruzzo dove gli abruzzesi vengono messi al centro del problema e allo stesso tempo si crea un'infrastruttura immateriale, si parla anche oggi di infrastrutture a livello di governo nazionale, noi riteriamo che anche quella del sociale è un'infrastruttura importantissima per la società, per le singole persone e vogliamo creare quelle condizioni di infrastruttura valida che non trovi interruzioni o situazioni che portano in un burrone come può essere magari il caso Bibiano che sicuramente non vorremmo trovare in Abruzzo. Sicuramente molto importante che va incontro alle esigenze dei cittadini abruzzesi meno fortunati di noi e io mi rifaccio logicamente all'articolo 3 della Costituzione che appunto impone a tutte le istituzioni della Repubblica di cercare di rimuovere gli ostacoli sociali e economici e permettere lo sviluppo umano, quindi noi vogliamo ottemperare a questo principio e secondo me questo piano ha tutti i presupposti per soddisfare questa esigenza.